Gli occhi Gli occhi? Gli occhi? D'alti l'ambito Cosa dice? siamo in strumenti stronti per 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 lascia pass수 o espresso tu chi c'è tu da i c'è la chi Cosa? Cosa? c'è ancora uno? c'è bisogno di andare in un mur c'è qualcosa? non, c'è un'escritto io prendo il canale PNR, perché ci sono bisogno l'escrizione come on 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 follow me follow me i am Alabama mam go da bubba idetam do ciebie cioè samENTAMON maflete come on come on ma c'è chi è no sono qui ci siamo che riparò in questo c'è chi c'è su a la strada Firefight E cosa faremo con lui? Lo scrimiamo Niente più di più di soldi Niente più di soldi Niente Ok No, no, puoi ci fuori No cosa tu Gdzie è il secondo? Ok, ciao Tu hai il? Oh mio Dio, tutti sono tutti qui c'è un ruino, c'è un ruino, c'è un ruino c'è un ruino come on due burlapso due burlapso due burlapso a io sono per 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 qui si sce a a il no no è è è il う non è non i il è ple abbastanza ma bella no di perché parò servo cheater si due vello mozeena ci o tu svolta cap il 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 un Mi sono recebi l'opoldo di un'è, io la l'altro. Hai dadà smiare. Biscono a non arribe, perché non mi non risp exam. Non tu servei più forte. Li quando fanno qui sotto la giù per la terra. Evi su a via parli di non? Io l'admina. Grazie che si me vuole! Che chi non mi ha avuto. Tanto ci si vanno. Ok. Io gli ab�iamo un maestro. Ford luck! Io non vedo, No, 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 no. e li qui q***o letta i i i i i i i i Sì! 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 I 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 Grazie a tutti.